buona giornata anche oggi una giornata per vivere anche oggi una giornata per essere in pieno e nella consapevolezza di quello che uno è chiamato a fare non vivere la vita degli altri non vivere la vita degli altri ognuno ha la sua vita certo gli altri possono aiutarci a vivere la nostra aiutarci a darci delle indicazioni a suggerirci a darci dei consigli ma ognuno ha la sua vita non siamo fotocopie e col motivo per cui imparare a vivere la propria vita non significa faccio quello che voglio non significa mi comporto solo e unicamente per me ma sapere che sono unico e che la vita degli altri non si copia anzi può essere un'occasione per imparare a vivere il meglio la pros la propria il signore ti illumini ti benedica buona giornata